Un autunno caldissimo e di caos totale è quello che aspetta gli automobilisti napoletani a causa del restringimento di carreggiata sulla tangenziale nei pressi del viadotto Capodichino. Il rapporto sulla sicurezza dell'infrastruttura è da brividi, bulloni spaccati, lamiere corrose e timori per l'arteria che circonda Napoli. Il dossier è finito anche sulla scrivania del ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli. Allo studio, oltre naturalmente ai necessari interventi di messa in sicurezza, anche la possibilità di cancellare il pedaggio. Una partita doppia, anzi triplice, da un lato il caos che ha paralizzato la città, con migliaia di automobilisti che si sono riversati sulla viabilità ordinaria, mandando in tilta la circolazione. Dall'altro la sfida della sicurezza per un'infrastruttura fondamentale per Napoli. Infine, ma non meno importante, la tempistica degli interventi. Il comune e la società concessionaria guidata dall'ex ministro Paolo Cirino Pomicino sono ai ferri corti. Se pensiamo che il tangenziale, se non vada errato, introita circa 100 milioni di euro all'anno con i soldini dei napoletani, quindi forse qualche informazione in più, qualche programmazione fatta meglio e qualche solidità in più la dovremmo pretendere. La prima misura del tangenziale deve adottare immediatamente per la gratuità della tangenziale sino alla fine dei disagi. La gratuità serve, punto primo, per alleviare i disagi dei napoletani, secondo per andare anche un po' più rapidi. Un braccio di ferro che rischia di dilatare ulteriormente i tempi, anche perché alternative al momento non se ne intravedono. Decisiva in tal senso sarà la mediazione del governo con il ministro De Micheli, che ha convocato i dirigenti per provare a trovare una soluzione. Sul tavolo anche l'apertura dei caselli, senza pagare dunque il pedaggio per snellire le code, come ha chiesto De Magistris. Ma la società tangenziale non ci sta e preannuncia ricorsi alla magistratura per i timori legati ai mancati introiti.